Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio dedicato al nuovo Longin Conquest. Longin Conquest, una famiglia che è la più storica, la più antica di casa Longin. Nasce nel 1954 come nome. Prima gli orologi non avevano un nome, una famiglia, un'appartenenza. La prima fu appunto la Conquest nel 1954, poi la seconda nel 57, la flagship e così via. Poi si iniziava a dare un nome proprio di cosa agli orologi. E' arrivata fino ai giorni nostri, passando per numerose trasformazioni, cioè negli anni 70 abbiamo visto i Conquest quadrati, Ultronic, Ultracron, di tutte le specie possibili. Per cui ha attraversato veramente la storia di Longin fino ad arrivare ai giorni nostri. Ma qual è il punto? Che fino all'anno scorso esisteva il Conquest, quello moderno, contemporaneo, era quello con i numeroni a ore 12 e a ore 6, che a me non mi è mai andato giù, non mi è mai andato giù quell'orologio lì. Per poi essere introdotta una nuova versione proprio lo scorso anno, nel 23, da 41 mm. E ora, oggi, in questo momento, in questa settimana, è uscita quella da 38, che tutti aspettavano in gloria, come si suol dire. Io non ho mai recensito quella da 41, perché sinceramente non mi convinceva, quindi è inutile che la porto sul canale se non mi convince al 100%, e a posteriori ho fatto bene, perché poi è uscito il 38 e non avrei potuto fare il 38, perché avendo già fatto il 41, cosa faccio? Un doppione di recensione? Certo che no. Quindi ho fatto bene a lasciarla da parte e fare questo 38, che portiamo qui sul canale, finalmente. Cosa c'è da dire? C'è da dire che sono vari colori. Ora, non me li ricordo nemmeno tutti, no? Cioè, il nero sicuramente, il blu che ho scelto io, perché, per non prendere il solito nero, ho preso il blu, poi mi sembra che c'è il bianco e il marrone, forse anche il champagne, non lo so. Ci sono dei colori, diversi colori, andate sul sito web a vederveli e così vi divertite, fate qualcosa di utile per la società. Io ho preso quello blu, come ho detto, almeno mi discosto un po' dal solito nero e c'è un po' di colore anche durante la panoramica. Dai, ho fatto per quello. Altre cose da dire su questo orologio non le dico, perché le vedrete poi dopo nelle considerazioni finali. Anzi, prima di quello vi devo ricordare che domenica 12 maggio alle ore 15 ci sarà il quinto raduno del canale, il quinto watch meeting presso la gioielleria Pasquale Domenici di Viareggio. Ci incontreremo tra tutti gli amici del canale. Voi venite numerosi, così diamo un volto ai nicknemi che compaiono su dei commenti, un volto a tutti quelli che mandano i video, no? Anche vi presentate. Io sono quello che ti ha mandato il video del scappellotto. No, ci si conosce, ci si scambia opinioni, ci si guardano gli orologi. Poi ci saranno banchetti di Longin, Oris che è sponsor della manifestazione, Vulcan, Orologi Caramai, ci sarà l'amico Umberto Pelizzari, ci sarà un regalino per tutti, una bella polo bianca da portare via, come ricordo. Quindi anche un bel ricordo ce l'avete. Quindi vi aspetto volentieri. Poi dentro al negozio possiamo anche provare gli orologi, guardarli, vedere le novità. Dai, 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 c'è tanta roba al fuoco. Venite. Vi mostro l'orologio del giorno, che oggi è questo bellissimo, Villervetta Dynawind. Ho l'orologio che in questi giorni sto indossando spesso, che ho un po' riscoperto, ho tirato fuori dal cassetto, perché devo farli ruotare gli orologi, una volta uno, una volta l'altro. Qui lo vedete come un bellissimo nato in pelle, single pass, realizzato da un amico John Kostraps, che anche lui è parte del canale. C'è il link sotto al video, andate a trovarlo, che è un bravo ragazzo. E niente. Adesso giriamo la camera, facciamo la panoramica dello stupendo Longin Conquest e poi ci vediamo qui, come al solito, per le considerazioni finali. Mai, come in questo caso, è necessario prendere visione delle misure diametro cassa 38.3 mm, spessore 11.1, ingombro trasversale al polso 46.5 e interasse ansa da 19 mm. Come si vede, si tratta di un orologio compatto e proporzionato, ce lo dicono i numeri e ce lo dice la resa al polso. Ogni parametro è stato scalato simmetricamente rispetto al modello da 41, compreso il corretto rapporto tra diametro cassa e passo ansa da 19. Inoltre, l'esiguo spessore è armoniosamente rapportato alla diminuzione delle misure generali. Mi sono capitati orologi da 38 mm con spessore sopra i 13 e l'effetto tombino è sempre stato bene evidente. Qui abbiamo invece un orologio che fila via liscio come l'olio, con quel suo sapore sobrio e contemporaneo che non rinuncia alla sportività. Un design che definire elegante è troppo e che definire casual è altrettanto troppo. La forma della cassa vede alcuni punti sui quali è necessario puntare la lente di ingrandimento. Ciò che lo pone al di fuori dei canoni classici è la forma delle anse, piuttosto presenti e con le estremità che terminano a 90 gradi rispetto al bracciale. Questo mette in risalto la netta differenza tra larghezza anse e larghezza bracciale, un design che ricorda in qualche modo la cassa oyster senza però esserla, anzi occorre sottolineare che è completamente differente. Il lato carur è perpendicolare al piano superiore e non è presente alcun tipo di smussatura a separarle, è presente invece un netto angolo vivo a 90 gradi, non vi sono parti dondeggianti o sinuose e lo si nota perfettamente osservandolo di lato. Se proprio devo fare un paragone direi che ha un profilo simile ai Tudor ma riuscito meglio, meno effetto mattoncino. Un altro dettaglio da considerare per comprendere al meglio la sua personalità è rappresentato dalle spallette di protezione corona, una caratteristica prettamente sportiva che fa il paio con la corona di carica a vite che di per sé garantisce poi i 100 metri di impermeabilità dichiarati, altra caratteristica di robustezza. Ecco in questo momento siamo riusciti a mettere a fuoco il suo posizionamento, ossia l'orologio indossabile in qualsiasi situazione o per meglio dire abusando di un termine retorico l'everyday watch. Sì perché si tratta di un orologio indossabile sia in situazioni dinamiche, magari a contatto con l'acqua o la polvere, che in situazioni formali laddove in abito ci si presenta ad esempio ad un cliente di lavoro. Nulla è precluso al conquest, tanto più che la finitura generale è semilucida. Non vi sono superfici con satinature marcate né parti estremamente lucide. È pur vero che la resa generale è quella di un orologio luminoso in quanto le maglie centrali del bracciale e la lunetta concorrono molto incisivamente a restituirci i tipici lucichi dell'acciaio lucidato. Ma questo fa parte della sua componente elegante che trova poi lo sbocco naturale nel quadrante e negli elementi che lo adornano. Come nella migliore tradizione della storica famiglia conquest, l'eleganza è un punto imprescindibile, a partire dal fondo blusoleil che è in grado di conferire una certa lucentezza generale al quadrante e che fa da contraltare agli accenti in acciaio lucidato. Spiccano infatti gli indici applicati in rilievo leggermente tridimensionali ma pur sempre discreti e le sfere doffena sagoma scorciata che riescono a coniugare la proverbiale classe dello stile heritage con quel tocco di moderno dato dall'estremità tronca. Come non menzionare poi la clessidra alata in acciaio e in rilievo, da sempre sinonimo di qualità e presente sui longin di fascia superiore. Insomma il volto gentile di un corpo robusto. Tra le altre cose anche il posizionamento della finestra data ad ore 6 è da considerarsi come un elemento che contribuisce all'equilibrio generale e di conseguenza alla resa formale dell'intero quadrante. Un elemento alquanto sportivo è invece rappresentato dal superluminova presente anche se in quantità minima. Insomma anche in questo caso non si è voluto esagerare per non rischiare di andare oltre e snaturare la sobrietà dell'orologio. Di conseguenza in assenza di luce è possibile orientarsi sul quadrante. I piccoli dot fanno da riferimento e gli indici ai quarti comandano. Certo non è una luminescenza da diver ma non gli è neppure richiesto. Non ho ancora menzionato il movimento che anima questo conquest. Beh si tratta del calibro che più spesso incontriamo nei longi in solo tempo contemporanei ossia l'L888 nella sua versione .5. Realizzato su base ETA A31 oscilla 25.200 alternanze orarie, A21 rubini e circa 72 ore di riserva di carica. Da segnalare la spirale a regolazione inerziale realizzata in silicio. Voglio inoltre rimarcare che le finiture estetico funzionali sono di buon livello. D'altronde questi calibri corrispondono ad un grado di lavorazione pari a quello delle labore dell'ETA 2892. È possibile osservarlo attraverso il fondello trasparente in zaffero. Qui avrei veramente preferito un fondello chiuso come da tradizione ma mi rendo conto che non è certo il mercato italiano o europeo a comandare le scelte e molto probabilmente il mercato asiatico richiede questa feature. Non rimane che parlare del bracciale che presenta maglie ad H satinate e segmento centrale lucido. Mi piace il fatto che vada rastremandosi passando dai 19 mm delle anse ai 16 della chiusura così come apprezzo la sua naturale flessibilità. Aderisce perfettamente al polso rendendosi confortevolmente indossabile. La particolare architettura delle maglie lo rende anche piacevolmente leggero. Ogni singolo elemento del bracciale è infatti distaccato di qualche millimetro rispetto al precedente e vada sé che a parità di lunghezza si ottiene un bracciale con massa inferiore e più comodo da indossare. Di ottima fattura anche la Deployant a Farfalla che porta con sé il minus dell'assenza di una regolazione fine. Occorre lavorare sulle maglie tenute in sede dai pin a pressione ma essendo presenti ben due mezze maglie è pacifico che la corretta misura è facilmente ottenibile. Possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali. E' insomma molto particolare il bracciale. Sono riusciti a renderlo leggero, indossabile, molto fruibile grazie a questa cosa delle maglie che sono leggermente distanti tra loro. Quindi viene a mancare l'acciaio e si alleggerisce il bracciale anche a livello di spessore è molto sottile, meno spesso del solito. E' un po' come quando dei supporti di acciaio si vanno a forare per alleggerirli. In questo caso ho scelto questa soluzione cioè rendere le maglie distaccate per metterci meno acciaio e renderlo più leggero. Questo mi viene in mente perché un amico nel canale Telegram ha detto che è andato a provarlo, a toccarlo con mano per prenderlo e poi è rimasto deluso dalla leggerezza del bracciale e ha optato per un altro orologio. Cioè non è che tutti gli orologi devono avere il bracciale pesante, carro armato, cingolato per essere da battaglia. Dai Verone. C'è anche chi opta per farlo flessibile, leggero, indossabile nello spirito dell'orologio. Cioè non è che deve essere per forza cingolato il bracciale, se non è spesso non è buono. Quindi questo amico magari se non è di tuo gusto è un altro discorso ma che lo ritiene di poca qualità perché è leggero, no. Non è leggero perché ha le maglie vuote di lamierino, è leggero perché l'hanno voluto fare leggero, indossabile. Detto questo l'orologio è una via di mezzo in tutto, no. È sportivo ma non troppo, elegante ma non troppo, semilucido senza troppe satinature ma senza troppe lucidature. C'è l'alluminova, c'è ma non troppa. È un po' un orologio democristiano diciamo. È una via di mezzo. E perché è una via di mezzo? Perché vuole essere l'everyday watch in stile conquest. Cioè elegante ma sportivo. Proprio veramente è uno di quegli orologi che si può andare ad inserire in quel segmento, ora ti prendo il segmento dal costoso al meno costoso, del dayjust all'acquaterra, ma anche il gentleman di Tissot, va in quel range lì e va a sostituire quello con i numeroni da 12 a 6 che a me non mi è mai piaciuto e in questo caso è una scelta vincente. È veramente un orologio da tenere in considerazione. Spessore sottile, finiture come ho detto semilucide, lucide, ma che non smaccano. Non è un orologio stancante. Sì, al polso è luminoso. Quando lo indossi la gente si gira a guardarlo perché è luminoso, però non è smaccato. Altre cose da dire, sì, il calibro eccellente fattura. La versione dell'Eta 2892 realizzata per Longin, quindi si parte già dalla versione Laboree con un certo grado di finitura, di precisione e di regolazione. Fondello a vista, non ci piace tanto, ma ormai siamo abituati a metterlo sul polso e non guardarlo più. È così. D'altronde i fondelli ciechi hanno qualcosa in più. Ora immaginatevi il Conquest che da sempre è storico in casa Longin con un bel fondello, magari con quel medaglione che ci hanno sempre messo, quelle cose, un medaglione dorato. Fa più scena, però così è. Noi ci accontentiamo. La chiusura farfalla, d'altronde, porta a con sé lo svantaggio della mancanza di regolazione fine, che però è fattibile tramite le mezze maglie e le maglie. È sempre il solito problema delle chiusure farfalla. Chiunque di noi ha un orologio con questo tipo di chiusura sa. Detto questo, cosa posso criticare Longin? Non sull'orologio in sé e per sé, sul quale non trovo niente su cui appigliarmi, ma sul comportamento in generale. Nel senso che lo Spirit, che potrebbe essere uno dei competitor di questo, anche se è molto più sportivo, un pilot dedicato all'aviazione, però il 40 mm e il 39 di questo, il prezzo più o meno è lì, lo stile è quello, però quell'altro è certificato COSC. E lì voglio dire a Longin che secondo me dovrebbe standardizzare una sorta di certificazione per i suoi orologi, cioè che chiunque sa che quando va ad acquistare un Longin ha quella certificazione lì. Poi che sia COSC, che sia Time Lab, che sia di un altro laboratorio, come ad esempio per il Legend Diver, o addirittura inventarsene una da zero. Non ci vorrebbe nulla che ETA creasse una etichetta nel quale dice, ecco fatto, io questi calibri qua li certifico Gangetto, un nome a caso, e da qui in avanti io ti dico che questi calibri qua sono controllati, certificati, fanno meno 4 più 4, eccoli qua, li monta Longin. Boh, siamo tutti contenti, con scritto Gangetto sul quadrante, sai che vai a comprare un Longin ed è quello. Invece qua abbiamo il rischio di trovare questo, che non è certificato COSC, lo Spirit che è certificato COSC, l'Ultracron che è certificato Time Lab, e il Legend Diver che è certificato da un altro laboratorio. Quindi un po' di confusione che secondo me andrebbe un po' razionalizzata. Standardizzare le cose, come standardizzare ad esempio il fatto dello sgancio rapido. Questo qua non ha le Spring Bars a sgancio rapido, probabilmente perché non arriva con il cinturino, non c'è un cinturino in dotazione, però perché fare sullo Spirit lo sgancio rapido, su altri orologi della Longin lo sgancio rapido, su questo non c'è lo sgancio rapido. Ora, ripeto, sempre per la standardizzazione delle procedure e della produzione, secondo me dovrebbero essere tutti allo stesso livello. Boh, poi detto questo, si trova di fronte veramente ad un orologino con i controfiocchi, che a me piace, che potrebbe tranquillamente entrare nella mia collezione, ma non c'entra perché a niente dei soldi, però ci entrerebbe molto volentieri, un po' da contraltare allo Spirit, no? Tra, tra, tra. Va bene, ragazzi, io vi ho detto tutto, poi non è che posso stare qui a pettinare le bambole all'infinito. Il Conquest da 38 ve l'ho spiegato, ve l'ho mostrato, ve l'ho letto, no? L'ho letto così, detto, e vi ho agevolato anche delle immagini in modo da farvi una certa idea. Io più di così non posso fare, poi decidete voi, eh? Voi siete quelli che comandano. Boh, ragazzi, mi sembra davvero detto tutto. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a qua, spero che vi sia piaciuto l'orologio, il video, il presentatore, se così non fosse me ne doigo, ma me ne farò anche una ragione, e vi ricordo gli appuntamenti fisici, che come sempre sono, quando voglio io, il più spesso possibile, qui su YouTube. Love! Grazie a tutti!